Siamo arrivati alla conclusione, anche quest'anno abbiamo finito Spumanti Italia, è arrivato in fondo, col botto, con l'ultima degustazione sui spumanti, oltre i 120 mesi, abbiamo chiuso una Kermess che penso che sia eclatante. La quinta edizione per noi è stata veramente un trampolino di lancio, un ennesimo trampolino di lancio, una conferma che siamo sulla strada giusta. Stanco, perché dopo due giornate di lavoro così intenso mi sento stanco ma mi sento anche molto felice e do appuntamento alle aziende che sono venute per il prossimo anno e dico a quelli che non ci sono venuti che si devono mangiare le mani perché non esserci stati si sono persi veramente qualche cosa di eclatante. E questo ben per loro ma ben per noi che le invitiamo a esserci anche la prossima volta con noi. Bene, auguri a tutti.